della responsabilità degli amministratori locali per non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma. Abbiamo fatto nostra una storica battaglia del lancio, approvato un pacchetto di norme che garantisce regole certe a chi vuole fare semplicemente il proprio lavoro. C'è chi ha sostenuto la necessità di un intervento del genere per tanto tempo e poi diciamo così ha cambiato idea, però io penso che fosse una cosa giusta, la rivendico perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità senza rischiare lunghi disonorevoli processi per le persone per bene. I sindaci sono il livello di governo a cui è fondamentale dare maggiore libertà di azione, autonomia, responsabilità perché rappresentano la società vera, quella che nelle città nasce, cresce, sperimenta, si evolve. Non c'è fenomeno sociale, individuale, collettivo che non abbia trovato nelle città il suo spazio e la sua naturale scena. I comuni, come ha giustamente ricordato ieri il presidente Mattarella, sono il simbolo della libertà e dell'unità della nostra nazione. Sono ovviamente d'accordo con il capo dello Stato, mi permetto di aggiungere un elemento alla sua riflessione. I comuni sono anche il motore della coesione, la cinghia di trasmissione che tiene viva la connessione tra le istituzioni, le comunità locali e i cittadini. Senza i comuni in buona sostanza l'Italia non esisterebbe. Scriveva Tocqueville, dopo la libertà di agire da solo, l'idea più naturale per l'uomo è di collegare i suoi sforzi con quelli dei suoi simili e agire in comune. È quella stessa idea che ogni giorno muove i nostri comuni, i nostri sindaci e che rende chiaramente l'Italia ciò che è. E quindi viva i comuni, viva l'Italia. E grazie davvero, buona assemblea.